L'azienda ospedaliera dei Colli, che a Napoli comprende il Monaldi, il Cotugno e il CTO, chiede di poter assumere a tempo indeterminato 15 infermieri in attesa di utilizzo nella graduatoria del Moscati di Avellino, ma da Contrada Moretta da 15 giorni a questa parte non ci sarebbe stato alcun riscontro. Questa in sintesi la denuncia di Pietro Antonacchio, commissario della CISL Funzione Pubblica Erpini Asagno, che sollecita la direzione strategica dell'azienda ospedaliera avellinese a darsi una mossa per consentire l'assunzione di professionisti, altrimenti condannati a perdere un'opportunità unica a causa della superficialità delle strutture burocratiche. Cancellate tutto, le cose non stanno così. La richiesta dell'ospedale dei Colli è stata evasa ben 37 giorni fa. Lo sapevano tutti, tranne il sindacato. La stessa azienda napoletana ha comunicato al Moscati i nomi dei nove infermieri immessi in servizio all'esito dello scorrimento della graduatoria. Lo precisa in una nota l'ufficio stampa dell'ospedale Moscati di Avellino.